Ciao a tutti amici, un saluto da Robert Matri, 1900, non lo trovo a vedere qui, là, vi farò vedere Altro golasso su punizione, stavolta non è Carlos Tevez ma è Cristiano Ronaldo Mamma mia, fenomeno Palla supera la barriera Portiere, non ci arriva, non ci arriva Courtois Amichevole, Real Chelsea Pennellata perfetta di Cristiano Ronaldo Fantastico Grazie a tutti amici Un saluto da Robert Matri 1999 dirpi Euro goal di Cristiano Ronaldo su punizione Grazie a tutti amici Grazie a tutti amici Grazie a tutti amici